Bocca e naso coperti anche quando si è seduti al banco. È la novità introdotta dall'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte che prevede nuove regole anche per il mondo della scuola. Gli studenti dai sei anni in su dovranno indossare la mascherina anche durante la lezione. Un'imposizione difficile da far accettare ai più piccoli, soprattutto a coloro che trascorreranno a scuola diverse ore a causa del tempo pieno. Andiamo a sentire il parere del dottor Bruno Arcangeli. Sicuramente un minimo di fastidio c'è. Per quello che riguarda però anche il fastidio dobbiamo dire che i bambini sono molto più tolleranti degli adulti, ma molto soprattutto se hanno un buon esempio. Se hanno ad esempio dei genitori che portano correttamente, lo fanno correttamente, per il bambino diventa poco più che un gioco. Di sicuro non c'è nessun problema da un punto di vista sanitario, anzi. Per molti bambini è quasi una protezione, non solo delle malattie infettive, ma per esempio gli allergici con la mascherina stanno meno male, perché non respirano allergeni, non respirano inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi non vedo un problema nel metodo, è un problema più mentale dei genitori che non tollerano per i propri figli nessun tipo di disagio. Sono abituati a dare tutto ai bambini. I bambini con qualche disagio crescono. Può essere l'utilizzo della mascherina il vero rimedio per, diciamo, prevenire l'aumento e il diffondersi dei contagi anche nel mondo della scuola? Allora, la mascherina è uno dei rimedi, insieme al distanciamento. Ripeto, come ho detto prima, è sicuramente il più importante. È un rimedio tutto sommato che non dà grandi problemi, ripeto, un po' di fastidio, ma sicuramente non ha dei problemi sanitari. Un bambino con la leucemia, i bambini con la leucemia hanno sempre portato la mascherina, non sono mai certo lamentati della mascherina, insomma. E gli salva la vita, quindi non vedo il problema.